favorito in tutto questo è via colonna non particolarmente fortunato nell'ultima uscita oggi potrebbe trovare sicuramente la sua dimensione la linea buona ci siamo tutto pronto parti cavalli dell'ultima corsa tempore è il più svelto a partire poi si ritrae e lascia strada a archangel che è uno dei più attenzionati action movie è l'altra che coglie una buona partenza poi con la giuba gialla troviamo anche la figura di mischia all'esterno c'è imperia sibilla poi via colonna riconoscibile dalla giuba a quadri rosa e neri in fondo al gruppo c'è glorenza con la giuba azzurra e nera poi con la giuba bianca rossa e verde c'è invece impetuoso in coda a tutti hardy girl all'interno c'è sempre la figura di mischia siamo così ad affrontare la prima parte della curva con action movie che rileva al comando archangel il quale tuttavia si rimane lì in posizione da sparo in terza c'è via colonna in quarta invece imperia sibilla seguita da impetuoso in mezzo ai cavalli troviamo con la giuba a viola tempore poi glorenza con la giuba azzurra all'interno id del messager ancora addy girl e poi in fondo al gruppo mischia passiamo indirittura d'arrivo con cavalli che si spostano come un'onda verso lo steccato esterno c'è sempre in vantaggio anzi adesso action movie è stata superata di slancio dall'interno da archangel poi ancora via colonna all'esterno di tutti c'è proprio impetuoso che adesso fa lo sforzo tre cavalli che si staccano definitivamente in lotta di dentro c'è archangel che ha qualcosa ancora di vantaggio rispetto ad impetuoso che prova l'ultimo a fondo via colonna che rimane lì archangel che sta sfuggendo ai serrate di impetuoso lo strillo del campo archangel che vince e batte impetuoso al terzo posto via colonna i due cavalli che erano primo handicap della carriera hanno fatto primo e secondo ma la punta ha dato ragione ad archangel per chi si è svegliato presto era disponibile 16 poi in chiusura di gioco 550 qui il primo piano del figlio di blue constellation della figlia di blue constellation femmina archangel con in sella riccardo jacopini per il training di riccardo cangiano i colori di francesco palmieri 8 al primo posto impetuoso numero 6 al secondo 9 via colonna al terzo quindi dal punto di vista numerico 869 questo è l'ultimo ordine d'arrivo che vi dovevamo Gabriele Candi vi ringrazia per l'attenzione vi dà l'appuntamento alla prossima giornata di corse in questo ipodromo martedì con le corse al galoppo mercoledì con le corse al trotto grazie e buon proseguimento di serata grazie a tutti 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 Grazie a tutti